Il consigliere comunale di Forza Italia Damiano Cardiello espone attraverso una nota le sue remore rispetto a Radicity, progetto di riqualificazione urbana in corso in questi giorni a Eboli. Indelebile resta il ricordo dello scempio artistico compiuto in piazza San Lorenzo, dichiara il capogruppo Azzurro, autentica follia sposata dall'amministrazione Cariello per realizzare un progetto che di turisti non ne ha minimamente a tratti. Lo sperpero di denaro pubblico continua senza alcun freno, dopo le nomine esterne nello staff da Casa Bianca voluto da Cariello che costerà circa 120.000 euro entro la fine della legislatura, il progettista di Radicity verrà liquidato anche egli con soldi pubblici con la cifra di 12.000 euro. Ci chiediamo, conclude Cardiello, come sia stato selezionato il progettista e perché non si sia provveduto a incaricare un tecnico interno risparmiando fondi pubblici. Grazie a tutti.